ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco cleocene crema pizzer srl ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cosa cleocene crema confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere cleocene crema durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cosa cleocene crema cleocene crema ha un farmaco a base del principio attivo clindamicina fosfato appartenente alla categoria degli antibatterici e nello specifico antibiotici è commercializzato in italia dall'azienda pizzer srl cleocene crema può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni cleocene 2% crema vaccinale 40 g più 7 applicatori monouso dosati informazioni commerciali sulla prescrizione titolare pizzer italia srl concessionario pizzer srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe c principio attivo clindamicina fosfato gruppo terapeutico antibatterici forma farmaceutica crema indicazioni vaginosi batteriche barra vaginiti a specifiche vaginiti sostenute da gardinerella vaginalis mobiluncus spp bacteroides spp micoplasma ominis pepto streptococcus spp osologia osologia un'applicazione al giorno di 5 g di crema pari a 100 mg di clindamicina al momento di coricarsi per 3 7 giorni consecutivi modo di somministrazione riempire completamente di crema l'applicatore ed introdurre profondamente in vagina estrudendo completamente tutto il contenuto controindicazioni la clindamicina controindicata nelle pazienti con precedenti anamnestici di ipersensibilità al principio attivo alla lincomicina o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 inoltre la clindamicina controindicata nei soggetti con precedenti anamnestici di colite legata all'uso degli antibiotici non somministrare nell'età pediatrica non essendo stata accertata la sicurezza d'impiego e l'efficacia avvertenze speciali e precauzioni di impiego prima o dopo l'inizio della terapia con clindamicina può essere necessario indagare con adeguati esami di laboratorio l'eventuale presenza di altre infezioni comprese quelle da tricomonas vaginalis cambia da albicans clamidia vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono disponibili informazioni sull'uso concomitante di altri medicinali per via vaginale con la clindamicina è stata dimostrata una resistenza crociata fra clindamicina e l'incomicina la clindamicina per via sistemica vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it assumere cleocina crema durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere cleocina crema durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza poiché a copyright non esistono studi adeguati e ben controllati su donne nel primo trimestre di gravidanza l'uso della clindamicina ha sconsigliato in questo periodo negli studi clinici l'uso intravaginale di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari la clindamicina non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari effetti indesiderati cleocina generalmente ben tollerato gli effetti collaterali più frequentemente riportati sono stati cervico vaginiti e vulvo vaginiti sostenute da candida albicans e tricomonas vaginalis irritazione vulvare la seguente tabella presenta le vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio non sono stati riportati casi di sovradosaggio con la clindamicina la clindamicina fosfato contenuta nella crema vaginale applicata in vagino può essere assorbita in quantità sufficienti a produrre effetti sistemici in caso di sovradosaggio effettuare un trattamento sintomatico e istituire un'adeguata terapia di supporto secondo necessità l'ingestione accidentale del medicinale può produrre effetti comparabili alle concentrazioni terapeutiche della clindamicina orale proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica antibiotici antimicrobici ed antisettici ginecologici codice atc g01 a 10 la clindamicina fosfato a un esteridro solubile dell'antibiotico semisintetico ottenuto mediante la sostituzione 7 s cloro del gruppo 7 r idrossilico della lincomicina la clindamicina proprietà farmacocinetiche dopo somministrazione unica giornaliera per via vaginale di 5 g di crema equivalenti a 100 mg di clindamicina base il picco serico medio dei livelli di clindamicina nel volontario era dati preclinici di sicurezza i dati di tossicità acuta relativi all'animale da esperimento sono i seguenti specie animale somministrazione dl 50 mg barra chilogrammi topo e v elenco degli accipienti paraffina liquida glicole propilenico e 1520 polisorbato 60 alcol cetostiarilico cetil palmitato acido ostearico sorbitan monostiarato alcol benzilico e 1519 acqua depurata fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato